Ciao, scusa per l'Igino Ciao a tutti, è arrivata la topa dei Ma dire, chi l'hai fatta invenzione? Questa è stata l'invenzione di Mario Jacopucci, Pollicino, Fernando Un po' di tutti Però hanno partecipato Mario Jacopucci soprattutto Che la topa dei ci mette anima e cuore E io la faccio funzionare Chi ci sta sotto adesso? Sotto c'è Domenico che sta livellando Domenico, sei pronto? Sei pronto? Sei pronto Domenico? Guarda il rubinetto Livella, livella Prego, apre il rubinetto 3, 2, 1, ciak Vai ragazzo, vai Vai ragazzo, vai Vai ragazzo, vai Sei forti Guardate come cala il livello Guardate Bravissimo Alla trentesima Io sono l'ingegnere Ottima invenzione Ci sto, il geometra L'ingegnere Com'è sta invenzione? Spettacolare Guardi i risultati Capite tu Eh, questo mi fai canguli Manga in trenta lì Ahahahah Ecco Mario che ha l'occhia Mario che ha l'occhia Mi resta su Su sito www.bondante.it Ahah Dai ragazzi Grandi, grandi Ok, ciao Ci vediamo la mamma cusci 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 Vabbè ciao ragazzi Ciao 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 ciao